Ancora un incidente mortale a Grevina di Catania, terzo motociclista perde la vita in meno di un mese. Era un chirurgo di 66 anni a Dacci Castello, altro incidente mortale. Arrestato dai carabinieri a Sant'Alfio è finito a domiciliare un 51enne pregiudicato per maltrattamenti in famiglia. Ha inseguito seminudo in strada la compagna brandendo un lungo coltello. Nessun morto, 180 feriti, 646 interventi dei vigili del fuoco, questo è il bollettino derivante dall'esplosione dei botti di Capodanno, diversi gli incidenti anche in Sicilia. Aperta nel pomeriggio la Porta Santa al Santuario di Monpileri, inizia il giubileo monpilerino nel centenario dell'elevazione a Santuario. Mentre il mondo si appresta a dare l'addio al pape merito Benedetto XVI, si intreccia nei ricordi di chi lo ha incontrato. L'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla pubblica l'incontro del 2015 e del 2016. Impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse della Sicilia. La regione, tramite il Dipartimento dell'Energia, pubblica l'avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali. L'anno è appena partito e la politica si sta già organizzando per le elezioni amministrative della primavera. Nel Catanese si vota in 19 comuni, compreso il capoluogo. I costi di benzina e diesel sono aumentati. In provincia di Catania, mediamente, si registrano in pennata a 1,81 al litro per il gasolio e a 1,76 per la benzina. A Paternò ripresi oggi i lavori di ripavimentazione con basolato lavico di via Vittorio Emanuele. I commercianti e i residenti chiedono di fare presto. Realizzata e pubblicata sulla rivista Remote Sensing la nuova mappa topografica dell'Etna, aggiornata a luglio 2021, zona sommitale Valle del Bove. Buonasera dalla redazione dei tecnici di Ciac News e buon anno. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con un'ampia pagina di cronaca. Giornata funestata purtroppo di lutti sulle strade. Il primo incidente è avvenuto stamattina a Gravina di Catania. Sentiamo. Settimane orribili le ultime per i motociclisti a Gravina di Catania. Terzo incidente mortale in meno di un mese nel comune Pedemontana e Tanneo. A perdere la vita stamani in via Tannea, a pochi metri dallo svincolo della tangenziale ovest, uno stimato chirurgo di 66 anni, Alfio Garrotto, originario di Messina ma residente a Lentini, travolto a bordo della sua Harley Davidson da un tir carico di frutta. Non ancora chiara la dinamica dello scontro fatale. A ricostruirla saranno i vigili urbani di Gravina di Catania, giunti sul posto insieme a un'ambulanza del 118, ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Al personale sanitario intervenuto non è rimasto altro che accertare il decesso del 66enne morto sul colpo. A causa del camion e della moto fermi in carreggiata, la circolazione in un punto nodale per la viabilità nei centri pedemontani a nord del capoluogo è andata letteralmente in tilt. È stata anche disposta per alcune ore la chiusura dello svincolo di Gravina della tangenziale di Catania. Utili a ricostruire la dinamica, le immagini delle telecamere dell'ANAS e due testimonianze. Il conducente del tir è stato sottoposto all'alcol test, risultando negativo. Il terzo incidente mortale a Gravina dall'11 dicembre scorso, quando morì un 49enne mascalucese. Appena tre giorni fa un altro incidente mortale a San Paolo, frazione gravinese, costato la vita a un commercialista, anche egli, residente a Mascaluccia, di 60 anni. E' oggi il terzo. Quanto basta per chiedere maggiore sicurezza su tutto il territorio del comune di Gravina di Catania. E' un altro incidente purtroppo mortale, si è registrato nella giornata di oggi. La vittima è una donna di 57 anni che questa mattina, intorno alle 9, ha perso il controllo sulla sua auto, una Renault, schiantandosi contro un muretto laterale sulla statale 114 in territorio di Acicastello. A provocare l'incidente potrebbe essere stato un malore. Ai medici intervenuti non è rimasto altro da fare che accertare il decesso dell'automobilista. E' un uomo di 52 anni. Alessandro Melfa, originario di Catania, residente a Gallo d'Oro, è morto nel pomeriggio a Castelmola, incontrato a Montevenere, per un incidente sul parapendio di cui era istruttore. Ferita una donna di 51 anni che si trovava sul velivolo insieme a lui. La signora non sarebbe in pericolo di vita. Per soccorrere la donna, che ha riportato diverse fratture, è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco in servizio presso il reparto volo di Catania. È stata a bordo la donna insieme a un medico del 118 con l'ausilio di un verricello. La 51enne è stata ricoverata al cannizzaro di Catania. In corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente mortale. Arrestato dai carabinieri a Sant'Alfio è finito ai domiciliari un 51enne pregiudicato per maltrattamenti in famiglia. Ha inseguito sei minuti in strada la compagna brandendo un lungo coltello da cucina. Sentiamo i particolari. I carabinieri della stazione di Sant'Alfio hanno arrestato un 51enne pregiudicato per maltrattamenti in famiglia. Nel pomeriggio di ieri un residente ha segnalato al 112 una possibile aggressione in corso da parte di un uomo seminudo che stava rincorrendo una donna armato di un coltello da cucina di 33 centimetri. I militari hanno così individuato il responsabile, trovato in abbigliamento intimo e calzini, che vedendo la gazella ha tentato di scappare nascondendosi all'interno di una casa vicina. Il soggetto, in evidente stato di ebrezza, è stato fermato. Il 51enne, secondo quanto ricostruito, ha preso l'arma, poi celata in una intercapedine alla base di un palo della luce, è inseguito per strada la sua attuale convivente, una 55enne di origine ucraina, cercando di colpirla più volte al viso. Fortunatamente la donna è riuscita ad arrivare al suo appartamento. Le forze dell'ordine hanno scoperto che quello era solo uno degli episodi aggressivi messi in atto dell'individuo, che era solito aggredirla, percuoterla e maltrattarla. La donna, esausta della situazione, aveva deciso di chiudere la relazione e allontanarsi definitivamente dall'abitazione del fidanzato. La sua scelta ha determinato l'ennesimo atto di violenza. Il coltello è stato sequestrato, il 51enne, posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, è finito ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'esplosione dei botti di Capodanno anche quest'anno ha provocato in tutta Italia e in alcuni casi gravi conseguenze alla salute. registrati a livello nazionale 180 feriti, fortunatamente nessun decesso. 646 invece gli interventi dei vigili del fuoco, bollettino che non ha risparmiato nemmeno la Sicilia. Non sono bastati i divieti né raccomandazioni. Salutare l'anno andata in archivio e dare il benvenuto al nuovo con botti e fuochi d'artificio è una di quelle tradizioni a cui gli italiani sembrano non saper rinunciare. E come accade ogni anno, anche nel 2023 sono state diverse le persone rimaste ferite a seguito dell'esplosione di prodotti pirotecnici, innumerevoli anche gli interventi dei vigili del fuoco per ingendi riconducibili e festeggiamenti di Capodanno. Da nord a sud della penisola italiana sono 180, stando ai dati dirammati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, le persone rimaste ferite dai botti, 48 delle quali ricoverate in aumento rispetto al 2022. 11 i casi di feriti con prognosi superiore a 40 giorni, in calo rispetto al precedente anno, 11 anche i ferimenti da arma da fuoco. Il bollettino non ha rispermiato la Sicilia, dove diversi sono stati feriti, anche minorenni, da botti di Capodanno. A Carini un bambino di 12 anni ha riportato una grave ferita alla mano, portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, e è stato poi trasferito nel reparto specializzato del Policlinico. Nel Messinese un uomo ha riportato delle ferite alla mano sinistra, giudicate guaribili in 30 giorni, a causa dello scoppio di un petardo trovato sul balcone durante le pulizie. Ferito alla mano sinistra anche un undicenne nel Catanese. Ancora nel territorio etneo un 47enne si è ossionato a seguito dello scoppio di fuochi d'artificio al viso e riportato escoriazioni a guangia e palpebra. Altre due persone sono rimaste ferite agli occhi, tre alle mani e uno al ginocchio. 646 sono stati infine gli interventi dei vigili del fuoco nella notte di San Silvestro, in leggero aumento rispetto allo scorso anno quando furono 558. 31 gli interventi effettuati in Sicilia. Cambiamo argomento. Aperto questo pomeriggio a Mascaluccia il Giubileo Monpilerino presso il Santuario della Madonna della Sciara. Ad aprire la Porta Santa Giubilare l'Arcivescove Metropolita di Catania, Monsignor Luigi Renna, nel settimo anniversario della sua ordinazione vescovile. Sentiamo. Con l'apertura della Porta Santa presso il Santuario Madonna della Sciara di Monpileria a Mascaluccia è stato inaugurato il Giubileo Mariano Monpilerino che lungo tutto il 2023 e sino al 6 gennaio 2024 celebrerà il centenario di erezione del Santuario avvenuto il 1 agosto del 1923 per volere del Cardinale Giuseppe Francicanava. L'apertura il 2 gennaio coincide con il giorno del settimo anniversario di ordinazione episcopale dell'Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Luigi Renna, che spiega il senso di questo evento giubilare. E' il giubileo della nostra Madonna di Monpileri, un giubileo che ci richiama alla gioia che il Signore augura alla figlia di Sion, Gerusalemme, Maria, la Chiesa. E' un invito a ritornare a quello che è il senso della nostra fede. Siamo amati da Dio e siamo chiamati a diffondere la gioia di chi si sente amato da Dio e non perde mai la speranza di fronte all'invito. L'apertura della Porta Sante è avvenuta al termine della concelebrazione eucaristica nella nuova chiesa di San Giuseppe Sposo, che si trova in posizione sottostante rispetto al santuario. Poi la processione sin alla chiesa della Madonna dell'Asciare, che custodisce sull'altare maggiore una statua di marmo della Madonna delle Grazie, opera della bottega di Antonello Gaggini, ritrovata miracolosamente nel 1704, seppur in diversi frammenti poi rimessi insieme, sotto una coltre di lava spessa 10 metri, salvata da una provvidenziale bolla d'aria che la preservò dall'inesorabile incedere della lava del 1669. Il simulacro della Vergine lo scorso anno è stato restaurato e riportato alle fattezze gagginiane, sino a mostrare il candore marmoreo, liberato da diversi strati di vernice sovrapposti nel corso dei secoli. Al termine della Santa Messa, la processione sin alla Porta Santa, insieme all'Arcivescovo Monsignor Luigi Renna, anche l'Arcivescovo Emerito Monsignor Salvatore Cristina e alcuni presoli di Sicilia, presenti anche i sindaci di diversi comuni etnei, con in testa il primo cittadino di Mascaluccia, Enzo Magra. In questo anno giubilare che vuole essere la partenza verso il giubileo del 2025, voluto da Papa Francesco, il Santuario della Madonna della Sciara ospiterà innumerevoli eventi, incontri teologici mensili, un concorso per studenti su due ambiti, artistico-culturale e sulla devozione popolare, le celebrazioni giubilari specifiche dei ragazzi, degli ammalati, della cultura, delle famiglie, dei nonni e degli anziani, dei camperisti. Il 30 maggio si terrà il pellegrinaggio giubilare della Chiesa Catanese. Ad agosto, mese del rinvenimento della Statua della Madonna, la festa del ritrovamento, giorno 20, e domenica 27 la solenne concelebrazione del giubileo Montpilerino, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E mentre il mondo si appresta a dare l'addio al Papa Emerito Benedetto XVI, si intrecciano i ricordi di chi lo ha incontrato in vita, come i soci dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla, che hanno incontrato il Papa a Roma sia nel 2015 sia nel 2016. Oggi i soci dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina hanno pubblicato su internet immagini e audio inediti di quegli incontri. Vediamo. Mentre tutto il mondo si appresta a dare l'addio al Papa Emerito Benedetto XVI, si intrecciano i ricordi di chi ha avuto con lui, soprattutto incontri ravvicinati, come vediamo in questo video pubblicato oggi su internet, intitolato La tenerezza del Papa, teologo dell'amore di Dio. Sono i soci dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla che incontrano a Roma Benedetto XVI nell'ottobre del 2015 e poi nel settembre del 2016. Immagini e audio inediti a cura dell'aggregazione mariana. La misericordia e la verità vanno insieme perché è solo una misericordia che risponde alla verità dell'uomo, una vera misericordia. Se faccio una cosa spagliata contro la verità, anche se appare misericordia, non aiuta l'altro. Quindi la misericordia e la verità vanno insieme, si baciano, dicono il Salmo, così, e seguendo la Madonna siete sul strato della vera misericordia. Non è così importante la lunga vita, è una buona vita importante vivere col Signore all'inizio del giorno e la sera salutando il Signore e poi andando avanti con i nostri doveri che sono nello stesso tempo anche doni e lasciarci guidare dal Signore senza paura, senza anche voler ottenere qualcosa, solo facendo quanto vuole il Signore e sufficienti. e benedica pieno potente, padre e figlio in Spirito Santo. Impianti di idrogeno rinnovabile in ari industriali dismesse, della Sicilia sarà possibile grazie a un avviso pubblico che è stato pubblicato dalla Regione siciliana tramite il Dipartimento dell'Energia. Sentiamone di più. In Sicilia si punta agli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. La Regione, tramite il Dipartimento dell'Energia, ha pubblicato l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali. Si potranno presentare le proposte a partire dal 1 febbraio e fino al 17. La graduatoria delle domande dovrà essere pubblicata entro il 31 marzo. Il bando, dal valore di 40 milioni di euro, è finanziato con le risorse del PNRR per la rivoluzione verde e transizione ecologica. A essere finanziate proposte progettuali di investimento fino a un massimo di 20 milioni ciascuna. Dovrà esserci la riconversione di aree industriali non più usate per creare centri di produzione e distribuzione di idrogeno verde. Il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, è intervenuto sulla questione. Siamo stati i primi a consegnare l'avviso pubblico al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, raggiungendo un primo traguardo a cui l'amministrazione regionale lavorava già da qualche anno. Questo però è solo il punto di partenza che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. La Sicilia, dice ancora Schifani, vuole diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo per la produzione di energia pulita. Occupiamoci adesso di politica. Il 2023 è appena entrato e già la politica locale si occupa delle prossime amministrative di primavera. In provincia di Catania si voterà in 19 comuni, fra i quali lo stesso capoluogo di provincia. L'anno è appena cominciato e la politica scalda già i motori pensando alle elezioni amministrative che matureranno la prossima primavera. Il 2023 è l'anno in cui diversi comuni in Sicilia, 129 per l'esattezza, sono chiamati al voto tra questi quattro capoluoghi di provincia, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Nel territorio etneo, oltre al capoluogo di provincia, Catania, sono 18 le realtà territoriali dove si dovranno rinnovare gli organi di governo locali. In particolare si voterà ad ACI Sant'Antonio, ACI Reale, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo etneo, Castel di Iudica, Gravina di Catania, Maletto, Mascaluccia, Mineo, Piedimonte etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Sant'Alfio, Santa Venerina, Valverde e Via Grande. La data ufficiale non è stata ancora decisa. Le elezioni dovrebbero comunque tenersi in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi. A Biancavilla il centrodestra in questo momento appare compatto sulla ricandidatura dell'attuale sindaco Antonio Bonanno. Silenzio invece in questo momento dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle che stanno cercando una figura di spicco per poterli rappresentare. A Belpasso invece è stata annunciata già qualche settimana fa il ritiro dalla corsa primo cittadino dell'attuale sindaco Daniele Motta. Al suo posto il gruppo a lui vicino che fa riferimento al deputato regionale Giuseppe Zitelli e al partito di Fratelli d'Italia ha deciso di ripresentare la candidatura a primo cittadino di Carlo Caputo, attuale presidente del Parco dell'Etna e già sindaco di Belpasso. Sempre nell'ambito del centrodestra annunciata alla vigilia di Natale la candidatura di Salvo Licandri, ex presidente del Consiglio Comunale Belpassese e attuale consigliere comunale vicino all'ex deputato regionale Alfio Papale. Per il centro-sinistra anche in questo caso non si hanno dichiarazioni ufficiali. A Maletto si ricandida l'attuale sindaco Pippo De Luca vicino al deputato regionale Cateno De Luca. A Camporotondo Etneo si attende invece di capire se, come si prospetta, potrebbe cambiare la normativa in vigore permettendo la terza ricandidatura Se così fosse ci sarebbe strada aperta per l'attuale primo cittadino Filippo Privitera al momento ha il suo secondo mandato. 2023 con rincaro della benzina. In provincia di Catania mediamente si registra un'impennata a 1,81 centesimi per litro per la benzina, per il gasolio e 1,76 per la benzina. Sentiamo. Carburanti a prezzo pieno già da ieri con l'inizio del nuovo anno. Il governo Meloni infatti nella manovra 2023 non ha confermato il taglio delle accise varato a marzo dall'esecutivo Draghi che prevedeva uno sconto di 30 centesimi al litro poi divenuto 18 centesimi dallo scorso novembre. Dunque dopo la riduzione è arrivata anche la definitiva eliminazione dal 1 gennaio 2023 e di conseguenza i costi di benzina e diesel sono già aumentati. In provincia di Catania mediamente si registra un'impennata a 1,81 al litro per il gasolio e 1,76 per la benzina. Si stima che dal 22 marzo al 30 novembre 2022 la misura sia costata alle casse dello Stato circa 7,3 miliardi di euro. La situazione legata ai rincari che preoccupa la cittadinanza sarebbe mitigata dal calo generale del prezzo dei carburanti alla fonte. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tra il 19 e il 25 dicembre il prezzo medio nazionale della benzina è sceso a 1,625 euro al litro, non accadeva da giugno 2021 e il diesel è arrivato a 1,689 euro, il costo più basso dallo scorso 31 gennaio. Le associazioni dei consumatori hanno comunque accolto poco benevolmente lo stop al taglio delle accise. I cittadini dovranno affrontare infatti il rincaro diretto e probabilmente pure l'incremento del prezzo delle merci poiché aumenterà il prezzo del trasporto su gomma. Insomma una situazione in divenire che certamente agita gli animi di tutti sin dall'inizio di questo nuovo anno. Ripresi questa mattina a Paternò in via Vittorio Emanuele nel tratto compreso fra piazza Regina Margherita e piazza San Giovanni i lavori di posa del basolato lavico. I commercianti e i residenti lanciano un appello fare presto. Via Vittorio Emanuele ha Paternò alle mie spalle l'area a cantiere. Questo cantiere è partito circa un mese fa per ripavimentare con basolato lavico. Questo tratto di via Vittorio Emanuele è compreso tra piazza Regina Margherita e piazza San Giovanni. I lavori sono finalmente ripartiti oggi dopo un periodo di fermo che è cominciato proprio alla vigilia di Natale. Interventi rapidi chiedono sia i residenti che i commercianti di questa parte della città perché questo cantiere come immaginate con la chiusura dell'arteria stradale ha determinato anche un calo sensibile nelle vendite. Oggi cominciano per i commercianti gli sconti e il periodo degli sconti di fine stagione sperano almeno in una ripresa dell'attività commerciale almeno in questa fase. Purtroppo però il cantiere va avanti almeno fino al prossimo mese. L'amministrazione comunale ha assicurato che già la settimana prossima dovrebbero arrivare nuovi operai per ripavimentare come detto con basolato lavico la strada. Si spera che il cantiere così come è stato assicurato dovrebbe concludersi il mese di febbraio quindi il mese prossimo. Abbiamo però sentito una commerciante di via Vittorio Emanuele proprio per dirci le sue sensazioni. Sentiamo. Non è stato esattamente bellissimo. È stato veramente triste in tutto e per tutto perché già solamente passeggiare, passeggiare è una parolona, camminare su questi marciapiedi così risicati dove passano anche i motorini, le biciclette, c'è anche il rischio che ti buttano per terra, insomma non è il massimo. Comunque l'abbiamo passato, vuol dire che doveva essere a questa maniera. Chiaramente ci è dispiaciuto tantissimo non aver potuto mandare avanti il progetto che avevamo proposto all'amministrazione di fare un esperimento sociale per quanto riguarda questo tratto di strada che sarebbe stato a quello che si era prospettato inizialmente, parzialmente chiuso e quindi parzialmente usufruibile per attività varie, proprio per cercare di muovere il centro storico, il paese. Non è stato possibile. Speriamo di farlo in seguito. Intanto comunque in positivo possiamo dire che da oggi cominciano gli sconti. Che cosa vi aspettate? A questo punto della vita non è che ci aspettiamo tanto, però siamo sempre propositivi. Combattiamo ogni giorno e speriamo sempre in un futuro luminoso. La nuova mappa topografica dell'Etna, aggiornata a luglio 2021, zona sommitale Valle del Bove, è stata pubblicata sulla rivista Remote Sensing. Aggiornamento reso necessario come specificato dall'Istituto Nazionale di Geofisiche e Vulcanologia, osservatorio Etneo di Catania, per via del cambiamento della superficie del vulcano dovuta alle continue eruzioni. E sempre l'INGV ha registrato ieri due terremoto con epicentro Ragalma. Un'attività costante modifica il profilo dell'Etna, così il vulcano con le sue continue eruzioni cambia la propria superficie topografica, fenomeno che reste necessaria la realizzazione di una nuova mappa. Aggiornata a luglio 2021, zona sommitale Valle del Bove, la mappa topografica ad alta risoluzione è stata creata grazie a una nuova procedura di fusione di dati satellitari elaborata da Tania Ganci e pubblicata sulla rivista Remote Sensing. A modificarsi principalmente le zone sommitali del vulcano, perché più esposta al ricoprimento di nuove colate laviche, erosioni e crolli, così sull'Etna, come spiegato da Marco Neri, vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, la colata lavica attiva dai primi giorni di dicembre 2022 e che emerge da una fessura eruttiva apertasi alla base settentrionale del cratere di sud-est, seppur modestamente alimentata, sta già modificando la morfologia e l'altitudine di quei luoghi. Sempre l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella giornata di ieri due terremoti con epicentro a Ragalna, una profondità di 3 chilometri. Il primo di magnitudo 2 è stato registrato intorno all'1.10 di notte, il secondo di magnitudo 2.8 alle 11.30 circa, e seppur lieve, pare essere stato avvertito dalla popolazione. Trasferiamoci adesso ad Adrano, dove è stato annullato, a sorpresa, dall'organizzazione lo spettacolo Fontane e Danzanti, previsto nell'ambito della Kermesse Armonie Natalizie. Accerteremo le motivazioni, dichiara il sindaco Fabio Mancuso, che intanto annuncia anche nuovi interventi per il 2023. Ieri sera Armonie Natalizie senza le Fontane e Danzanti, come indicato nel cartellone. L'evento non è seguito, come comunicato a sorpresa dall'organizzazione dello spettacolo. Accerteremo le motivazioni, ha scritto nella tarda mattinata di ieri il sindaco di Adrano Fabio Mancuso, nella sua pagina Facebook, comunicando che l'evento legato alle Fontane era stato appunto annullato. Ieri sera comunque Capodanno al villaggio di Babbo Natale, all'Arena dell'Etna, con la musica del DJ Bruno Schirirò, la visita all'area shopping, la pista di pattinaggio e il divertimento al parco giochi. Sindaco Capodanno senza le Fontane e Danzanti, si balla questa sera all'Arena dell'Etna con la musica di un DJ. Sì, intanto buon anno a tutti, un 2023 che ci auguriamo pieno di salute, felicità e serenità. Per la nostra amministrazione sarà un anno di concretizzare tutti i finanziamenti che abbiamo ricevuto. La sorpresa che ci hanno comunicato che non potevano venire chi aveva già sottoscritto un contratto con l'amministrazione per le Fontane e Danzanti, nelle prossime ore sapremo la motivazione. Loro ci hanno detto genericamente di un guasto, ma considerato la mia esperienza non credo che c'è stato un guasto, verificheremo e naturalmente è possibile che questi signori pagheranno a tutti gli adraniti il bellissimo Natale che abbiamo fatto. Va bene, ne sapremo di più. Allora, nelle prossime ore, Sindaco, lei ha detto in un messaggio di fine anno, il 2022 è stato l'anno delle idee, dei progetti, il 2023 sarà l'anno delle realizzazioni. Eh sì, perché il PNRR, dove sono arrivati i fondi più cospicui per l'amministrazione, prevede proprio un cronoprogramma dove nel 2023 devono essere consegnati i progetti nei primi sei mesi e nei secondi sei mesi le realizzazioni. Quindi ci saranno tantissimi cantieri, dal centro storico alle scuole, alla reggimentazione delle acque, al mercato ottofrutticolo, a via Casale dei Greci, insomma, e poi un milione di euro stanziato solo per la manutenzione straordinaria delle strade. Quindi con il completamento del lavoro che abbiamo iniziato nel 2022. E poi tantissimi interventi nei servizi sociali, dall'ampliamento dell'asilo nido a tutto quello che è il supporto agli anziani. Saremo in gita con loro nel 2023. Stiamo pensando di fare una gita fuori porta, ma proprio fuori dall'Italia, con gli anziani. Lo faremo anche per le altre attività. Insomma, sarà un 2023 ricco di tantissime cose. Abbiamo avuto il tempo di programmare per tempo, dopo un anno che abbiamo fatto tantissimo lavoro. Ci sarà il gemellaggio con Namur e lavoriamo per il gemellaggio con Kempten, perché sono le città dove gli adraniti hanno assolutamente messo radici con i loro figli e i loro nipoti, ed è giusto che Adrano si gemelli con queste due città del Belgio e della Germania. Ed era questa l'ultima notizia del nostro TG, ma vi invito a seguire ancora l'aggiornamento delle nostre notizie su ciacctelesud.com, oppure sui social sia Facebook sia Instagram. Per tutti gli aggiornamenti potete anche iscrivervi al nostro canale Telegram. Infine, per i comunicati stampa potete utilizzare la mail redazione chiocciolacciactelesud.com. È davvero tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Ciacctelesud. A risentirci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.